Un ligno anzivato che cos'era? Ah, un ligno anzivato praticamente era un asse di legno molto grosso piantato a terra o tenuto in qualche modo, non so dai fili, credo che fosse piantato a terra per bene, insomma, eccetera. E allora veniva il legno tutto, veniva praticamente coperto di materiale molto scivoloso, grasso, questo era stato grasso animale, oli, roba del genere. Va bene. E allora in alto c'era il premio. Non so se era tutta roba alimentare soprattutto perché a quei tempi la roba alimentare era... Ambita. Era molto ambita, si figuri, i tempi di allora non erano quelli di oggi sicuramente. E allora c'era che si provava a salire ed era un problema molto grosso, salire perché si scivolava e ci voleva molto. Anche se erano vestiti con delle tute particolari, particolari che potevano consentire di non scivolare, ma si scivolava facilmente. Questo era per San Giuseppe, i fuochi che si accendevano e poi c'erano dei ragazzi che dovevano saltare e chi saltava era un coraggioso, era un, insomma, era un fatto... Dove veniva messo il... E quella... Cosa deve dire è quella di saltare su fuo... E quello di saltare su fuo.